La Regione appoggia il comitato promosso da Rete Veneta a riaprire il Tempio Sario, un dovere morale. Movimento 5 Stelle del Grappa ancora all'attacco a Bassano, gestione poco chiara delle liste. Il governatore mette in guardia dal centralismo finanziario, difenderemo l'autonomia delle nostre banche. Dopo il restauro parla l'assessore Donazzano, il museo civico diventi centro della vita sociale cittadina. Il capo della protezione civile elogia le attività dei volontari della nostra provincia, siete l'orgoglio del Veneto. Unite all'insegna della tutela del territorio, il 1 maggio parte la festa del mondo rurale. Tutto pronto alla grande festa di domani, la maratura del Santo attraversa l'Alta Padovana. Resana invasa dai visitatori per la festa di San Marco tra tradizioni e rivisitazioni storiche. Mister Petrone smentisce le voci che lo vorrebbero già ad Ascoli, penso solo al Bassano. Buonasera a voi telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento con informazioni di Bassano OTG. In apertura riflettori nuovamente puntati sul neonato comitato, sorto su iniziativa di Rete Veneta per aprire il Tempio Ossario, il simbolo di Bassano chiuso da troppi anni. Anche la regione sarà a fianco del nuovo gruppo di lavoro. Bisogna dare atto a Rete Veneta di aver sollevato questo problema soprattutto negli ultimi mesi. Un'iniziativa che ci permetterà di riaprire questo luogo che rappresenta la memoria e la storia della nostra città, del paese intero. Un luogo che purtroppo da molti anni è chiuso a causa del disinteresse da parte di qualcuno che non ha voluto affrontare questo problema e ridare dignità ad uno dei luoghi che rappresentano la storia della nostra città. Il Tempio Ossario, luogo simbolo di Bassano dove riposano più di 5.000 caduti nel corso della Prima Guerra Mondiale, deve riaprire. È un imperativo categorico che si è imposto il neonato comitato, sorto su iniziativa di Rete Veneta. L'emittente televisiva da tempo ha denunciato la vergognosa chiusura del Sacrario chiedendo una mobilitazione generale che deve coinvolgere la città, il territorio, l'intero Veneto. In finanziaria quest'anno abbiamo stanziato 7 milioni e mezzo per gli eventi della Grande Guerra e mi impegnerò in prima persona per portare a Bassano quei finanziamenti che serviranno per riaprire questo luogo della memoria e della storia. Il comitato, costituito da componenti delle istituzioni, delle categorie economiche produttive, dell'associazionismo, del mondo del lavoro e della cultura, si impegna nel reperimento dei finanziamenti regionali. Sarà il braccio operativo che porterà a concretizzare ciò che tutti i bassanesi chiedono a gran voce, riaprire il Tempio Sario, quello che i residenti chiamano la porta della città. E come ha richiarato il presidente del comitato, l'assessore regionale Elena Donazzan, sia anche pronti a costituire una fondazione. Ci stiamo informando come fare, ma sicuramente a breve mettermi in piedi questa fondazione che ci permetterà negli anni di manutentare e tenere aperto questo nostro monumento. Bassano merita dignità e rispetto e mi auguro che le cose cambino in fretta. A cominciare proprio dalla nostra storia. A cominciare dalla nostra storia e prima di tutto con la riapertura del nostro Tempio Sario. Il Movimento 5 Stelle di Bassano è riuscito a raccogliere le firme necessarie per presentarsi alle elezioni comunali. La nuova raccolta è stata necessaria dopo la modifica della lista per l'arresto di Stefano Costa, candidato col Movimento e accusato di sequestro di persona. Ma per i 5 Stelle del Grappa la vicenda è tutt'altro che chiusa. Noi diciamo che dall'anno scorso stiamo aspettando risposte, non solo, ma io di recente, proprio quando loro hanno presentato la lista, ho consegnato a brevi mano al senatore Dincà, con promessa di rispondermi entro 4-5 giorni, entro il giovedì, e tutt'oggi è passata una settimana abbondante, delle risposte di cui 5 domande le abbiamo fatto, non mi ha risposto a nessuna domanda, non solo, ma l'ho chiamato, gli ho mandato anche dei messaggi e non ho avuto comunque risposta, anzi probabilmente, vedendo il mio numero, non mi ha risposto proprio per questo, visto i casi che sono successi. Ma le dirò di più che io non capisco come il caso Costa, loro che l'hanno frequentato e lo frequentavano e lui veniva alle nostre riunioni proprio con il preciso intento di creare Gazzarra, va bene, era assieme spesso e volentieri con la signora Anna Maria, la candidata al sindaco Conte, va bene, e a me mi hanno bannato non sapendo neanche chi sono, lui invece l'ha tenuto dentro, anzi lo hanno anche addirittura candidato. La cosa incredibile è che non c'è stata trasparenza, non c'è democraticità, perché noi vogliamo capire perché è stata certificata quella lista, cioè le motivazioni, e soprattutto vorremmo che i parlamentari che hanno promesso di metterci la faccia, ce la mettono su serio, se no non sono più i portavoci dei cittadini, sono i portavoci di una banda, in questo caso la banda di questi signori che si presenta a Bassano. Tuteleremo l'autonomia degli istituti di credito del Veneto e Presidente della Regione Luca Zaia lancia l'allarme, il sistema delle banche territoriali è a rischio e va difeso dai pericoli di un crescente centralismo finanziario. Ha preservato l'autonomia delle banche e del territorio perché poi sono state le vere banche a fianco ai nostri imprenditori e alle nostre famiglie. Il centralismo deve essere combattuto non solo a livello amministrativo, ma anche a livello finanziario. Dall'Assemblea dei Soci di Veneto Banca, il Presidente della Regione Luca Zaia mette in guardia dai rischi che corre l'autonomia delle banche del nostro territorio. A Roma si contempla un disegno nel quale non ci siano più le banche del territorio e si pensi che i mega istituti possano risolvere i problemi del territorio, e io dico di no, soprattutto in una comunità come quella Veneta, dove delle 600.000 imprese almeno l'80% hanno meno di 15 dipendenti. Zaia commenta così l'ipotesi di aggregazione tra Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. È un'ipotesi che non esiste. Quell'autonomia di Veneto Banca va difesa fino in fondo. C'è da dire che noi però dobbiamo difendere tutte le banche del Veneto. Visto e considerato che questo attacco, che ormai si legge chiaramente, e chi ancora non lo vede lo vedrà nei prossimi mesi, coinvolge non solo le banche popolari del Veneto, ma anche le banche di credito cooperativo. E riguardo alle polemiche che sulle celebrazioni del 25 aprile hanno diviso venetisti e associazioni dei partigiani, tra chi sostiene l'anniversario della liberazione e chi preferisce festeggiare San Marco, Zaia e Netto, una contrapposizione che non ha ragione di esistere. Trovo assurda una guerra tra poveri su queste partite. È il giorno della liberazione, è il giorno della resistenza, ricordare anche i tanti morti che abbiamo, e dall'altro ovviamente San Marco, il nostro patrono non capisco perché bisogna rinunciare a San Marco. Il Museo Civico di Bassano deve diventare un punto di riferimento per la vita sociale e culturale della città. Dopo il riamodernamento e la riapertura, l'assessore regionale Elena Donazzan indica i nuovi obiettivi del museo. Fondi regionali ben spesi. È soddisfatta l'assessore Elena Donazzan per la riapertura del museo di Bassano, che ha schiuso i battenti questa settimana, ha rinnovato nelle strutture più moderne, funzionali, nuovi arredi, nuove aree espositive, postazioni multimediali e spazi destinati a conferenze e incontri. I fondi della regione sono stati ben utilizzati, perché il museo deve tornare centrale. Le opere di ristrutturazione sono state fatte, ora dobbiamo renderlo vivo, perché un museo chiuso con poche visite non serve. Non vale l'investimento che abbiamo fatto tutti città e regione. La riapertura coincide con l'inaugurazione di due mostre, Michelangelo, capolavoro grafico e paesaggio urbano nella mappa di Bassano. Arte ad alto livello, quindi, ma non solo per il museo più antico del Veneto, che si ripropone nella rinnovata veste di spazio culturale a 360 gradi, punto di riferimento per la vita sociale della città. L'auspicio è che adesso questo museo sia aperto di più, sia più fruibile. Ci si faccia anche iniziative che magari non hanno solo come unico scopo quello di andare a vedere i bellissimi quadri all'interno. Oggi i musei devono essere aperti verso la città. Noi abbiamo fatto questo investimento, vediamo di farlo fruttare. E con il prossimo servizio andiamo a Sant'Eulalia, frazione di Borso del Grappa. I residenti hanno chiamato Rete Veneta per denunciare l'improvvisa chiusura di una strada in pieno centro paese, creando disagi che ben si possono immaginare. Il comune chiude al traffico una strada, ma il divieto vale solo per alcuni abitanti e monta la protesta a Sant'Eulalia davanti al cartello posto in via Crozera. La gente adesso si trova che non può percorrere una strada che ha percorso da sempre e in più sono state autorizzate delle vie rispetto ad altre che non abbiamo capito neanche con che senso. Ma le motivazioni quali sono state? Perché appunto i residenti che abitano in questa via volevano la tranquillità? Non lo so adesso, penso che sia quello il motivo. L'hai detto un paese? Tagliato a metà, anche noi siamo residenti di questo paese. Siete andati dal sindaco? Il sindaco non fa niente. Se proprio volevano bloccare la gente che entrava da fuori, che corre sulla strettoia, che non si ferma a dare la precedenza, sono d'accordo, quelle cose le vedo anch'io, ma allora ci sono tante altre soluzioni. Non ci sono preoccupati in una strettoia qua. Quando questa strada, in fondo quasi al confine con l'Iedolo, è sei anni che ormai è disastrata. Ma lì il comune non ci mette le mani. In effetti via Misquilla è decisamente disastrata. Intanto i residenti di Sante Olalia ribadiscono l'inutilità di un provvedimento comunale di interdizione al traffico della strada nel cuore del paese. Il divieto dovrebbe avere valore sperimentale di sei mesi, ma intanto i trasgressori vengono multati dai vigili. Ci sono delle attività che già gli anni sono un po' così. In più i clienti fanno una scelta di venire qui, che magari ha fuori anche mano. In più arrivano qua e si prendono la multa, la prossima volta non vengono più. Voi avete chiamato Rete Veneta per chiedere cosa? Chiedere o rimane come era prima, o almeno un senso unico. Può essere che le case di sopra passano, o le case di sotto passano. Cosa vuol dire? Serie A e serie B. Le tasse le paghiamo diversamente, allora cominciamo anche a pagare le tasse diversamente. E la situazione è giorno dopo giorno più difficile, con le deviazioni del traffico anche pesante. E c'erano quattro furgoni in fila che venivano su, perché logicamente adesso bisogna che vengono idea. A me con 63 anni sono sempre passata perché la strada è là, e i tassi le paghiamo e abbiamo il diritto di passarne ancora. Tutto pronto a Torre di Quartesolo per la festa interregionale della cultura rurale, un'iniziativa che unirà il mondo dell'agricoltura, della caccia e della pesca. Si preannuncia una quattro giorni densa di iniziative e sono attesi migliaia di visitatori a Torre di Quartesolo per la festa interregionale della caccia, della pesca e della cultura rurale, in programma dal 1 al 4 maggio al Palalago di Marola. È una bella iniziativa che abbiamo organizzato frutto di un lavoro di qualche anno che ha messo insieme tutti coloro che noi definiamo come portatori della cultura rurale, quindi agricoltori, pescatori, allevatori, cacciatori, ambientalisti, non integralisti ma propositivi, tutte persone che vogliono far conoscere l'importanza delle nostre attività perché qui si rappresentano alcuni milioni di persone che lavorano, producono reddito, che pagano le tasse e che garantiscono quindi un introito importante per lo Stato attraverso il quale lo Stato garantisce servizi a tutti i cittadini. Dalle esposizioni fotografiche a quelle di attrezzi tradizionali usati nella caccia e nella pesca, dai prodotti tipici dell'enogastronomia agli spettacoli di intrattenimento, dalle gare di pesca o di tiro al piattello alla mostra cinofila ai corsi didattici. La festa interregionale si presenta come un concentrato delle attività di vari mondi, cacciatori, pescatori, agricoltori che si sentono uniti in nome di un obiettivo comune, la tutela del territorio. Tutte queste realtà ogni giorno, proprio perché sono innamorati del loro territorio, operano concretamente per garantire manutenzione, gestione e questo è il beneficio dell'intera collettività. È giusto che le persone sappiano cosa rappresentiamo in termini numerici, in termini economici, in termini occupazionali, in termini culturali. Siamo ora alla cronaca, già agli arresti domiciliari torna in manette Matteo Giraldello, 21enne di Romano Dezzelino, sorpreso a rubare assieme ad un 17enne serbo nella casa del vicino. È accaduto la scorsa notte ad avvertire i carabinieri un passante che ha notato movimenti sospetti nei pressi del villino preso di mira dai due. I militari hanno trovato la porta del garage forzata e la casa in disordine. I due hanno tentato la fuga, ma sono stati subito bloccati rinvenuta in uno zaino la refurtiva il cui valore si aggira sui 5 mila euro. Torna in treno da Vicenza, fermato per un controllo, viene trovato in possesso di droga. Nei guai 11enne di Caldogno, già noto alla polizia locale nord-est vicentino, da perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto due involucri contenenti marijuana, nascosti nella felpa e nei calzoni. Il giovane è stato segnalato alla prefettura. A Vicenza, in occasione del disinnesco della bomba inglese dell'aeroporto Dal Molina, rappresenta anche il capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fanco Gabrielli, che ha confermato l'importanza del lavoro della protezione civile in un territorio come il nostro dal delicatissimo equilibrio idrogeologico. La zona del Vicentino è una zona molto attiva anche proprio per la protezione civile. Il Veneto purtroppo è un territorio con grandi criticità idrogeologiche. I suoi fiumi sono praticamente tutti pensili, quindi con situazioni che, soprattutto negli ultimi anni, per l'aumento e la concentrazione delle precipitazioni, hanno messo in evidenza le criticità strutturali. Ovviamente dopo l'alluvione del novembre del 2010 molte cose sono state fatte, come ama ripetere il Presidente Zaglia, moltissime altre ce ne sono da fare. E quindi in attesa che tutte le opere siano realizzate, un buon sistema di protezione civile aiuta a gestire questi eventi, se non altro per salvaguardare le vite umane. Che cosa che servirebbe per affiancare perché l'attività della protezione civile funzionasse davvero al top? Io credo che un maturo sistema di protezione civile debba necessariamente coinvolgere le comunità. Solo comunità consapevoli, comunità che sanno quali sono i rischi che insistono sul proprio territorio, diventano comunità resilienti, diventano comunità capaci, insieme all'istituzione, di affrontare al meglio ogni tipo di calamità. 2000 persone hanno partecipato ieri alla Festa di San Marco a Resana, una festa all'insegna della tradizione e delle rievocazioni storiche. Festa di San Marco a San Marco di Resana. Oltre 2000 le presenze registrate tra i 180 gazebi allestiti per i mercatini in occasione della sfilata con il gruppo storico di San Marco, con gli armigeri e le coppie in costume, i cavalieri di Resana a cavallo e la milizia veneta. Festa di San Marco a San Marco, festa della liberazione, festa di San Marco, patrono di questo paese, e patrono di tutti i Veneti. Una bella festa di popolo. Sta per partire una grande sfilata a cui parteciperanno diverse associazioni, tra cui anche questa del primo real. Ricreare, qui o che gera, un reparto dell'esercito veneto di fine Settecento, al fine di onorare la nostra storia in maniera degna, formale, seria e farla conoscere a tutti quanti. Sfilata della Bastia di Noale, contento di tamburini e sbandieratori, a prendere parte allo sfilamento anche i trattori d'epoca, tra cui il primo trattore comprato a Resana nel 1922. È un grande momento per il piccolo paese di San Marco, dopo tanti anni è ritornata la sagra paesana, con tutta una serie di attività, che quest'anno si concluderà il 4 maggio. La festa con la mostra di arti e mestieri antichi, una collezione di 500 modellini di auto e la contemporanea sagra del Bruscandolo, con la riscoperta delle erbette di stagione. Chi non è venuto gli dispiacerà. Con i bimbi si festeggia anche la settima edizione del torneo Avis Champions League organizzato dall'Avis di Resana. Festa anche con lo Schettin Club San Marco per il campionato artistico a rotelle ancora in corso. Anche l'alta padovana attraversata dalla Maratona del Santo sono sette i comuni interessati al percorso della Maratona Sant'Antonio che parte da Campo d'Arsego passando per San Giorgio delle Pertiche, Campo San Piero, Massanzago, Borgo Ricco, Cadoneghe per arrivare a Padova. Partenza alle 8.30. Siamo ora allo sport con il calcio il Cittadella ha battuto in trasferta alla Regina 1-0 grazie ad un autorete al 34esimo minuto del secondo tempo. Il portiere del Cittadella di Gennaro ha parato un calcio di rigore assegnato alla Regina e tirato da Gerardi. E ancora a calcio l'allenatore del Bassano Virtus Mario Petrone smentisce qualsiasi firma di contratto con altre società. Sarà concentrato sino all'ultimo sulla sua squadra e sul lavoro dei suoi ragazzi che domani incontreranno in casa il Renate. Domani si incontra il Renate in casa ma intanto bisogna mantenere l'imbattibilità al mercante. Sì, è fondamentale e importante proprio per in virtù alla preparazione della Supercoppa che dobbiamo affrontare a fine campionato. è una partita dove grazie al lavoro dello staff è un ringraziamento particolare alla Grotteria dal Monte a Zucker che nei minimi particolari in questi giorni ma poi tutto l'anno perché sono ragazzi eccezionali persone per bene lavoratori e grandi professionisti. Tenere il campo nostro inviolato vuol dire insomma che poi ci siamo con la testa per preparare meglio la Supercoppa. Quindi la partita di domani paradossalmente ma non perché sia l'ultima in casa è la più importante dell'anno. In questi giorni si sente continuamente parlare del futuro di Mr. Petrone al Bassano futuro che pare che pare incerto almeno da quello che si legge nei giornali pare che lei sia vicino all'Ascoli la firma con l'Ascoli di vero cosa c'è? Ma di vero c'è credo il fatto che tutti dovrebbero essere contenti detto questo è una cosa fine a se stessa perché noi almeno io personalmente devo raggiungere degli obiettivi qua e finché non finisce la stagione non parlerò di altro però ripeto sono notizie queste che non passano osservate poi specialmente da una piazza come Ascoli che ha fatto la Serie A se insistono su queste notizie io sono lusingato però ripeto detto questo dobbiamo finire la stagione nei migliori dei modi. Parata di SESLE questa sera nell'abituale appuntamento del sabato con il cinema di Rete Veneta alle 21.05 vi proporremo il film Sharada con Cary Grant Audrey Hepburn e Walter Mattow domani vi ricordo i nostri appuntamenti alle 9.16 Santa Rosaria a seguire la parola del Signore alle 10 la Santa Messa dalla Chiesa di San Zenone degli Ezzelini alle 13.15 Idea Formazione Nord-Est e alle 17.50 Agricoltura Veneta e nell'augurarvi un buon proseguimento di serata vi lascio come ogni sera al ricordo dei caduti che riposano nel Tempio Ossario di Bassano per la cui riapertura Rete Veneta chiede l'impegno di tutti i Veneti il nostro telegiornale quindi termina qui vi ringrazio dell'attenzione della compagnia e vi auguro una buona continuazione di serata arrivederci Aira Gallo Giovanni Alavastro Giuseppe Alban Giacomo Alban Giuseppe Albanese Antonio Albanese Carmine Albano Giuseppe Albasini Giuseppe Alberici Felice Alberti Francesco Alberti Pietro Albertin Carlo Aldini Angelo Aira Gallo Aira Gallo